Ma non è finita lì perché il governo sta violando una norma importante soprattutto per quanto riguarda la Costituzione italiana lo vedremo tra pochissimo questo il governo vuole metterci la mano soprattutto introducendo questa norma proprio nel codice delle comunicazioni elettroniche dove vuole impedire a questi venditori di sim carte telefoniche di vendere una sim card ai stranieri se non dimostrano un permesso di soggiorno ciao, benvenuto, grazie, grazie per aver scelto di seguirci grazie, se questa è la prima volta che ci segui metti mi piace su questo video iscriviti su questo canale in modo che tu possa sempre ricevere le informazioni soprattutto anche aggiornamenti che sono spesso molto importanti per capire il contesto sociale, il contesto politico in cui viviamo soprattutto per quanto riguarda il tema dell'immigrazione ecco, quindi verifica se ti sei iscritto se non ho ancora fatto, farlo in questo momento così avrai facilmente questi aggiornamenti ecco, questo episodio di oggi torna su un altro tema abbastanza importante perché tocca alcuni elementi molto sensibili di cosa voglio parlare soprattutto vorrei parlarvi di un decreto un disegno di legge precisamente in corso che vorrebbe imporre l'obbligo di dimostrare di avere un permesso di soggiorno per poter acquistare una sim card ecco, vorrei tornare su questo tema magari alcuni di voi avete già sentito parlare di questo vedremo cosa prevede questo nuovo disegno di legge e poi vedremo insomma le sue conseguenze soprattutto vedremo le sanzioni che sono previste per poter appunto punire o sanzionare le persone che vorrebbero aggirare questa norma che il governo vuole introdurre nei prossimi giorni vedremo anche le conseguenze di questo provvedimento e poi vedremo cosa rischia questo provvedimento quali sarebbero le conseguenze soprattutto e cosa sta violando questa norma che il governo vuole introdurre nella sua politica cosiddetta per contrastare l'immigrazione ecco, questo è il tema di cui ci occupiamo quindi ti invito a seguire per capire cosa ci attende cosa attende le persone soprattutto in questa materia che il governo già vuole riformare vuole introdurre cose nuove allora, in questo momento quindi nel Parlamento italiano con tutti i passi tutti i teri possibili previsti c'è un disegno di legge appunto che affronta tanti temi ecco, questi tanti temi inerenti alla sicurezza in diversi settori settore ferroviario e così via nelle stazioni avete sentito parlare di questo ci sono delle riforme che il governo vuole introdurre io vorrei tornare soprattutto su una riforma che il governo vuole introdurre per quanto riguarda il codice delle comunicazioni elettroniche soprattutto adesso questa riforma si trova nell'articolo 32 che prevede appunto l'introduzione di un nuovo documento per poter insomma registrare una sim card come lo sapete per utilizzare un telefono qualsiasi quindi uno lo compra e poi deve andare da uno degli operatori telefonici e quindi acquista una sim card che inserisci dentro e ora per acquistare questa sim card quindi ci sono diversi operatori insomma, voi conoscete uno deve dimostrare un documento d'identità questo documento d'identità basta che sia un documento d'identità riconosciuto in Italia quindi per i stranieri fino adesso bastava avere con sé un passaporto per poter riuscire quindi ad acquistare una sim card senza nessun problema inserire nel suo telefono pagare quanto bisogna pagare per avere sia l'abbonamento oppure insomma la ricarica che uno vuole fare e iniziare ad utilizzare il telefono questo il governo vuole metterci la mano soprattutto introducendo questa norma proprio nel codice delle comunicazioni elettroniche dove vuole impedire a questi venditori di sim card telefoniche di vendere una sim card ai stranieri se non dimostrano un permesso di soggiorno quindi tra i documenti oltre a un documento d'identità che è già in uso vuole chiedere che ai cittadini extracomunitari quindi non appartenenti a uno stato dell'Unione Europea loro devono dare anche una coppia del loro permesso di soggiorno per poter finire questo acquisto della sim card questo è il contenuto generale di quanto contenuto in questa norma in questa riforma che il governo vuole fare ma questo comporta veramente tante conseguenze perché lo vedremo tra poco perché immaginatevi se uno arriva in Italia prima di avere un permesso di soggiorno ci vuole tantissimo tempo tanto tempo prima di tutto per avere l'appuntamento presso la questura e poi tanto tempo per poter appunto riuscire a dare le impronte aspettare dopo le impronte digitali e poi aspettare tanto tempo ancora per riuscire ad avere un permesso di soggiorno stiamo parlando di un periodo che sta tra un anno e tre anni se tutto va bene ecco questa procedura come lo prevede adesso questo nuovo disegno di regge chiamato sicurezza non so se creerà sicurezza o insicurezza lo vedremo tra poco vuole comunque che qualcuno che arrivi in Italia in queste condizioni durante tutto questo tempo di attesa la persona non abbia un telefono quindi non può comunicare allora come lo sapete per esempio sapete che per riuscire insomma ad entrare in comunicazione in qualsiasi parte dove vai in un centro di accoglienza in un luogo sempre ti chiedono i tuoi contatti i tuoi recapiti anche telefonici anche nella procedura di e per poter chiedere asilo politico chiedere la protezione internazionale ti chiedono i recapiti quindi se vai a fare qualsiasi cosa in questo momento ti chiedono i recapiti telefonici ecco oltre a questo ti chiedono anche una mail per poter utilizzare una mail tanti stranieri utilizzano spesso un telefono che deve essere collegato su internet quindi per riuscire a fare questo ci vuole una sim card immaginate quindi qualcuno che arrivi in Italia comunque avendo il diritto di avere questa protezione e così via ma deve aspettare tutto questo tempo prima di avere questo metodo di comunicazione prima di riuscire ad accedere a una mail e quindi deve aspettare di avere già un permesso di soggiorno come farà a comunicare con gli operatori legali che lo stanno seguendo come farà a comunicare con qualsiasi persona come farà a comunicare con i suoi familiari sia che che siano nei paesi di origine oppure sia che siano qualsiasi altra parte magari fuggendo si sono dispersi in diverse parti del mondo ecco queste sono delle conseguenze ma le conseguenze sono veramente tante ma la cosa è abbastanza strana sono le sanzioni che sono previste e per qualsiasi persona magari uno potrebbe dire sì io magari potrei aiutare qualcuno acquistando una nuova simulcata a nome mio e poi la do a quella persona che non ha diritto di averla no adesso con questo nuovo disegno di legge sono previste le sanzioni in questo caso per esempio si dice che sono previste quindi due tipi di sanzioni quindi c'è la multa quindi che sarà quantificata in soldi e poi ci è previsto anche una sanzione un'interdizione un divieto di acquistare una sim card oppure un dispositivo mobile un telefono oppure una tablet che va da sei a due anni queste sono le sanzioni previste per qualsiasi persona che cercherà di aiutare un immigrato un migrante arrivato in Italia perché non avrà diritto di ottenere un permesso di soggiorno e poi un'altra sanzione prevista è prevista anche per i venditori cioè le persone che vedono il sim card che non rispetteranno questa norma quindi magari se vai a un negozio team oppure un negozio Vodafone o Wind o qualsiasi operatore loro se non rispetteranno questa verifica allora rischiano anche le loro sanzioni che vanno da la multa e poi con altre sanzioni che verranno definite quindi lo capite che comunque un rivenditore non accetterà quindi di avere una multa salatissima ma semplicemente ti rifiuterà di venderti una sim card se non avrai un permesso di soggiorno valido anche se il tuo passaporto sarà valido però senza permesso di soggiorno non sarà facile ecco le conseguenze come capite sono tante quindi questa soluzione di isolamento rende ancora invisibili quelle persone perché queste persone quando arrivano comprate una sim card con un documento un passaporto sono delle persone che sono facilmente rintracciabili quindi togliendo questa possibilità anche di esibire questo passaporto diventano ancora più più invisibili e poi ci sono anche degli ostacoli bloccaratici come lo sapete adesso quando la questura ti vuole dire qualcosa quando ti vogliono comunicare che mancano dei documenti nella tua procedura ti mandano o un messaggio quindi sul telefono oppure ti mandano una mail e quindi questo quindi per poter farlo devi avere un telefono collegato a internet oppure quindi se vuoi tu personalmente controllare su quella procedura di verificare lo stato della tua pratica devi avere una possibilità di connetterti su internet quindi questo il governo lo vuole bloccare lo vuole impedire questa opzione ma non è finita lì perché il governo sta violando una norma importante soprattutto per quanto riguarda la costituzione italiana lo vedremo tra pochissimo e poi quindi oltre a queste sanzioni che abbiamo visto che sono previste ovviamente è una cosa mai vista da nessuna parte del mondo perché comunque tutti i paesi prevedono rispettano le possibilità di riuscire ad esprimersi a comunicare quindi spetta al governo di metterci dei mezzi per poter controllare qualsiasi comunicazione che fa per ogni persona che vive e abita in Italia ecco quindi questo già sta violando il diritto internazionale almeno per adesso questo aspetto che hanno messo vedremo se questo provvedimento verrà anche introdotto per quanto riguarda anche le persone che hanno un permesso di soggiorno magari scalduto ma già avuto in Italia vedremo se rilascerà la possibilità alle persone che hanno un permesso di soggiorno ma in corso di rinnovo se loro magari con una ricevuta riusciranno magari se ti si rompe il telefono o tu lo perdi se avrai la possibilità di acquistare un'altra sim card con la ricevuta per adesso vedremo il testo cosa dirà quando sarà approvato se lo sarà e poi vi teremo aggiornati questo provvedimento sta violando l'articolo 15 della costituzione italiana che dice così leggo testualmente la libertà e la segretezza della corrispondenza di ogni altra forma di comunicazione sono inviorabili la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge questo è l'articolo 15 della costituzione italiana quindi che deve essere rispettato prevede che prima di tutto ci sia già uno giudice che ti impedisce di utilizzare un telefono quindi già e questo già parte male comunque i tribunali sono lì sono aperti ci saranno tanti ricorsi su questo cosa ne pensi a tuo avviso è possibile privare una persona di qualsiasi mezzo di comunicazione per riuscire proprio attaccare quella persona farla tornare nel suo paese facci sapere cosa ne pensi scrivi qui sotto nei commenti condividi con altre persone e ci vediamo magari con gli sviluppi su questo tema grazie a presto